in cui egli legge il commento. Che cos'è una serie di fotogrammi? Commento. Per serie di fotogrammi le guide del cerchio Firenze 77 intendono una scena con tutto quello che contiene. Chi legge questo commento ad esempio vive i fotogrammi fisici che oltre a contenere il corpo fisico del lettore inserito nel luogo in cui egli legge il commento contiene il suo corpo astrale quindi tutte le emozioni le sensazioni e i desideri che egli ha mentre legge e il suo corpo mentale quindi tutti i pensieri che ha nel momento in cui legge.